Un fisico da urlo, una icona di stile, oppure bella e brava. Quante volte abbiamo sentito questo genere di descrizioni nelle cronache sportive riferite alle atlete? Commenti che finiscono spesso per mettere in secondo piano i risultati sportivi. Le atlete stanno crescendo, grazie anche a alcuni eventi, penso al calcio femminile, ma non solo, però ancora siamo indietro, molto indietro rispetto ad altri paesi dell'Europa e non solo, anche nel linguaggio, anche nella collocazione delle notizie che riguardano lo sport femminile. Ora arrivano cinque semplici regole di buon giornalismo rivolte ai cronisti per scrivere di donne nello sport senza cadere nei soliti luoghi comuni. Sono contenute in un manifesto frutto di una intesa tra la WISP, la Federazione dei Giornalisti, l'Usigrai e l'Associazione Giulia Giornaliste. Il documento è stato presentato alla Casa dello Sport di Bolzano. Le indicazioni sono molto semplici. Parlare delle disparità salariali tra le atlete e gli atleti, evitare di soffermarsi su relazioni sentimentali oppure su aspetti estetici che spesso prendono il sopravvento rispetto al dato tecnico. L'appuntamento rientrava in un ciclo di quattro incontri dedicati a donne e sport. Il 30 ottobre in programma una tavola rotonda con le campionesse altoatesine.